Io sono Luca Neves, sono nato a Roma, ho 32 anni, sono un chef, un artista musicale, porto la mia cucina italiana che ho appreso qui in Italia con una fusion capovertiana. Stessa cosa con la musica, canto in Italo capoverdiano, i miei sono delle isole di Capoverde, mia madre da Sao Ninclao e mio padre da Sao Vicente. Sono arrivati in Italia negli anni 70, hanno lavorato per quasi più di 40 anni pagando regolarmente contributi qui in Italia. Ho vissuto sempre a Roma, esattamente a Trigoria, e ci sono stati dei casi di razzismo, dalla materna fino al liceo e così via nell'ambito lavorativo. Un episodio che mi viene in mente è quando un ragazzo della mia brigata italiano, figlio di genitori italiani, non accettò il fatto che io fossi suo chef di cucina italiana. Io non ho i documenti da quando ho compiuto i 18 anni, ho fatto la richiesta per la cittadinanza, da quel momento in poi per un ritardo di un mese, proprio per riuscire a ottenere tutti i fogli richiesti dall'anagrafe, con questo ritardo non ho più potuto ottenere la cittadinanza italiana. Perciò sono apolite, io dico questo, io dico questo, perché avendo soltanto un passaporto di capoverde non puoi comunque partire, non puoi comunque accettare un contratto di lavoro e così via tantissime altre cose. Io ho deciso di non rinnovare il permesso di soggiorno quando mi dissero che non potevo più ottenere la cittadinanza italiana, perciò dissi che non continuo a rinnovare un documento di una nazione dove non sono nato. Ma dopo un anno, diciamo all'età di 20-21 anni, ho richiesto di rifare il rinnovo del permesso di soggiorno, ma per poter campare, per poter andare avanti. E che succede? Che non hanno più voluto accettarmelo perché non ho più rinnovato dal complimento di 18 anni. Una gazzella in Africa deve correre tantissimo per salvarsi da un leone. E un nero nato e cresciuto a Roma senza un documento deve correre più di quella gazzella per poter arrivare al domani. Perciò il calvario è iniziato dai miei 18 anni in poi, dietro tanti ricorsi, battaglie. Nel frattempo uno deve vivere, respirare, mangiare, pagare un affitto, fare tutte le cose che fa un essere umano normale. Da lì ho iniziato a fare il lavapiatti, aiuto a cuoco. È stata dura, perché dovevo sempre entrare in questi ristoranti come persona che lavora in nero. Cioè immaginatevi voi uno chef che lavora in nero. Cioè immaginate tutta quanta la scalata, farsi tutta la scalata in nero. Una volta che arrivi al traguardo, la vivi bene perché è un traguardo o comunque l'hai raggiunto. Però non la vivi bene perché potevi viverla con un documento. Questo che vuol dire che tanti contratti di lavoro, ho avuto tante opportunità, belle pesanti, e non poterle accettare. E non vedere il tuo nome e cognome su quel pezzo di carta e non poter firmare, come con la musica. Perché quando fai l'artista musicale e sei un emergente e ti chiamano all'estero come artista, ben pagato, non poter firmare perché non può prendere un biglietto di aereo, è veramente ridicolo. Per cucinare io mi ispiro sempre a mia madre perché ho fortissimo il ricordo delle domeniche del ragù, la lasagna che faceva la domenica, lo spezzatino, questi piatti italiani proprio. E c'erano a Paris-Passo anche piatti capoverdiani che è la caciupa, il pastel, perciò ecco da lì è nata questa fusion. Un ricordo di mia madre che mi porto sempre è la forza. La cosa più forte che ho di lei è il suo sguardo al funerale di mio fratello, vedere tuo figlio che arriva a 21 anni, vederselo andare via e andare avanti per gli altri figli. Quindi quella forza è rimasta addosso a me e mi sta aiutando in questo mio cammino, in questa battaglia lunghissima. Nel 2012 hanno fatto un foglio di via, dovevo presentare un ricorso, non ho potuto farlo perché sono stato appresso a mia madre che ha avuto un ictus e ancora oggi sono contento di aver fatto quella scelta. E non ho seguito la situazione dell'espatrio, negli anni è andata avanti la cosa. Era il 19 settembre del 2019, cosa che io tengo molto dire che è il giorno di San Gennaro. Mi rimane molto impresso quel giorno perché sono andato tranquillamente come tutti, che ho un appuntamento. Io entro in questa questura, stavo per fare appunto un timbro e quando fai il timbro vuol dire che sia arrivato. A me mancavano le gambe, ero contentissimo dopo 13 anni. Finché arriva una chiamata, la chiamata segnala che ho questi fogli di via. Loro mi hanno detto, hai 30 giorni e poi dovrei andare a Ponte Galeria e andare via. Dobbiamo un ottimo esaminare questa cosa, attenda un secondo in celletta. Ho sentito dire celletta. Ho avuto un po' di timore, perciò dico, cosa mi potrà accadere? Non vogliono farmi avvisare i miei, cosa mi succederà? Ho fatto un bel respiro e ho detto, ok, io ho un telefono con me, sta dentro la cartellina. Ho fatto scivolare questo telefonino dopo che ho ripreso quello che mi succedeva, solo dicendo che io e Luca Neves sono chiuso in una celletta senza alcun motivo. Dalle 10 fino alle 8 di sera sono stato lì dentro, mi hanno rilasciato solo alle 8 di sera con due firme da fare a settimana per 30 giorni e poi andarmene via. Ma il giudice di pace non mi ha permesso di fare neanche la prima firma e ha cancellato il tutto. Sono stato richiamato in questura, più che chiamarle scuse le chiamerei per un chiarimento. Loro volevano sapere perché io feci quel video e io volevo sapere perché invece sono stato chiuso in una celletta. È giusto che una persona nata e cresciuta qui a Roma, che ha sepolto il proprio genitore, il proprio fratello qui a Roma, senza un precedente, con voglia di fare tutto quanto debba subire una situazione del genere? In passato molti avvocati hanno mangiato su di me e ho buttato qualche soldo. Ma lì è il primo avvocato che mi ha detto Luca io non ti dico che riusciamo, non ti dico che non riusciamo, ma ti dico che quando riusciremo, se riusciremo ti dirò sì ci sono riuscito. C'è una persona con i piedi molto a terra, è una persona che non ha preso da me ancora un centesimo. Il prossimo passo è questa causa al 10, con questo 700, un foglio d'emergenza, perché due settimane fa siamo andati appunto con il mio avvocato che è venuto dalla Sicilia e abbiamo fatto un congiungimento familiare con mio padre e non hanno accettato questa cosa, rimandandocela al 12 di dicembre. Io non posso aspettare fino a quella data, hanno dato questa causa il 10 maggio, perciò stiamo affrontando la cosa con i piedi molto a terra. Non sono stato bene con la pressione già da qualche anno perché non ho potuto fare correttamente delle visite, appunto non mi faccio un'analisi del sangue da quasi più di 10 anni e ho lavorato tantissimo a testa bassa, nel frattempo il nervoso della mia non libertà. Tutte queste cose messe assieme hanno accumulato molto nervoso, si sono sfocate in una paralisi di Bell trigemito e sono rimasto bloccato dalla parte sinistra, fino a poco fa ancora un po' all'occhio continuo a dare problemi. La pressione è molto alta perché siamo arrivati quel giorno che sono andato in ospedale, stavo a 200, 200 e passa e la si è presa molta paura perché appunto mia madre è venuta a mancare per un ictus e quando stavo al ristorante mi è presa questa cosa che non riuscivo a muovere più il lato sinistro, ho pensato soltanto che a lei. La parte che mi è rimasta impressa è la dottoressa che mi ripeteva di continuo tu ti devi calmare, se non ti calmi farai una bruttissima fine. La persona che mi ispira di più in assoluto è mia madre. Come appunto l'evento dell'ictus che ebbe nel 2012, questo dottore gli disse che non poteva più camminare, proprio ufficialmente paralizzata, al che io il gesto di mia madre è stato veramente d'impatto perché prenderlo da quel letto con l'unica mano che poteva muovere sul petto, sulla camicia, portarselo verso di lei e dirgli guardandolo negli occhi io, decido io quando camminare o no, sono io a dirlo, io. E in effetti quello diceva, era quello che lei proprio intendeva di fare e dopo un anno si rimise in piedi. chiedendomi subito di portarla in questo ospedale che si chiama CTO e questo dottore, mia madre ha voluto vederlo proprio negli occhi e dirgli guardi sto camminando, questo dottore gli sono venute delle lacrime perché è rimasto incredulo della cosa. A chi mi ha detto perché non ti sposi per prendere una cittadinanza dico che io mi sposterò quando voglio io, come il foglio di via lo stesso discorso andrò a capoverde quando lo dico io. Io potevo farlo tranquillamente ma da sempre, maggior ragione ora che sto con la mia ragazza che è italo-francese perciò c'è la doppia e potrei benissimo prendermi il documento sposandomi con lei. Ma ho una dignità da portare avanti, ho i sacrifici di mia madre, mi ha dato sempre un pezzo di carta con una penna, una cartella per andare a scuola e diventare oggi quello che sono comunque uno chef come potevo essere tante altre cose. Ho deciso questo, questo l'ho fatto in pieno, nel migliore dei modi lo sono diventato perché dovrei sposarmi, è la cosa più controsenso che esista al mondo io penso. dovrò avere la mia cittadinanza e un bel punto ci sta presto. Capoverde è la tradizione, capoverde è una cosa che ho sempre inseguito anno dopo anno, tutte le mie domande sono piccole ed è per quello che oggi io metto piatti fusion capoverde e la musica è una musica italo capoverdiana. E' chiaro, il fatto della burocrazia italiana non mi ha permesso di poter dare un saluto, l'ultimo saluto ai miei nonni, ai miei zii che sono venuti a mancare. Roma io la chiamo mamma Roma, è una mamma, è una mamma che mi ha messo al mondo, mi ha cresciuto, mi ha dato l'istruzione, è la terra che accarezza mio fratello e mia madre che non ci sono più, sono sepolti qui a Roma, è la terra che ha accolto i miei genitori quando sono arrivati molto giovani qui in Italia. Roma è l'unica cosa che mi ha fermato quando stavo per commettere una pazzia dovuta alla stanchezza. Una cosa su Roma che mi rattrista molto è che Roma è come a livello multiniettrico, è come New York ma non se ne accorta di esserlo. Sento come una mamma che mi ha tradito ma non me la posso prendere con Roma il posto perché Roma il posto non me la toccherà mai nessuna. Se non domani mi arrivasse il documento mi voglio fare con la macchina, con la patente tutta, guidare fino in Francia e oltre tutta l'Europa e poi tornare. Un'altra delle prime cose è sposarmi proprio alla faccia dei tanti. Mi sposo con i documenti, avere una carta di credito, firmare un contratto di lavoro. Come dice qualcuno, non voglio nominare, dice il documento non è una lotteria. Io dico proprio che avere un documento è come una lotteria. La lotteria non si vince sempre, solo i fortunati ce l'hanno. In Italia ci sono i figli di immigrati che hanno il documento. Hanno vinto la lotteria quelle persone lì. Se ne esco vincente da tutto questo sicuramente devo dedicare questa vittoria a mia madre che mi ha sempre dato la forza per andare avanti. Alla mia ragazza che è Elen Mastroian che mi ha stato accanto giorno dopo giorno nel bene e nel male della famiglia. E soprattutto è ovvio il mio produttore musicale. Sono queste le persone più fondamentali in tutta questa battaglia. Lo dedico a loro. le persone più fondamentali in tutta questa battaglia ha cav Brillat 99 metrista rigorosa. che fareMAN B, assistants. Grazie.